Quello che posso dire è che posso commentare sicuramente la partita globale dove c'è stata una reazione che non ha portato al gol. Peccato perché eravamo in casa contro una diretta concorrente. Guardiamo sempre le cose con abbastanza criterio, nel senso che non c'è niente di brusco, nel senso che ci può stare a trovare di fronte anche un Torino ben organizzato, che è venuto qua ben rodato da una squadra ben rodata e che viene qua ci può mettere in difficoltà. È chiaro che il primo gol sembra fuorigioco di un metro e mezzo, quindi quando inizi così fai fatica. Poi è chiaro che la reazione doveva essere una reazione ancora più forte di quella che abbiamo fatto. Non c'è qualcosa che non ha funzionato, il discorso sicuramente il fattore cattiveria incide. In questo momento questa era la partita dove non potevamo pensare di fare tanto possesso palo, giocare, chissà cosa, ma dobbiamo assolutamente verticalizzare per fare gol e cercare di fare punti contro una squadra che è la nostra portata. Tutto ciò premesso, cioè che la vittoria del Toro non è assolutamente in discussione, abbiamo visto nel secondo tempo però un atteggiamento dell'arbitro un po' fiscale, sia nell'espulsione di Weiss ma anche nell'allontanamento di Bergodi e poi abbiamo visto anche un faccia a faccia con il presidente Daniele Sebastiani. Tu dal campo che impressioni hai avuto di Mazzolini? Mazzolini ha gestito una partita nel modo più tranquillo possibile, nel senso che ormai sul 2-0 non è che c'era una cosa eclatante da giudicare, ha giudicato frettolosamente secondo me la seconda munizione di Weiss e quindi automaticamente ha compromesso la partita. Ma prima di attaccarsi all'arbitro bisogna pensare a noi, non possiamo pensare a arbitri o altre cose. L'unico aspetto positivo di giornata sono i risultati che arrivano dagli altri campi, no? Sinceramente non dobbiamo neanche guardare quelli, nel senso che noi dobbiamo costruire il nostro campionato sulle nostre prestazioni e oggi era un tassello importante da portare a casa.